Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei cuori di Gesù e di Maria. Oggi è mercoledì 12 agosto, ci avviciniamo a passi ormai rapidi verso la grande solennità dell'Assunzione al Cielo di Maria, sabato prossimo 15 agosto. Tutta la Chiesa sarà in festa per questo grande momento che è la Pasqua di Maria. Agosto è il mese della Pasqua di Maria. Ne parlavamo ieri sera nella Catechesi, che spero vi sia piaciuta e non sia stata troppo teologica, l'Assunzione al Cielo della Madonna in anima e corpo. Quindi ci stiamo preparando. Oggi è già il tredicesimo giorno della quindicina che stiamo mandando in onda ogni giorno su Radio Domina al termine della Santa Messa. So che tanti la state facendo e la state apprezzando. Abbiamo iniziato questa nostra rubrica oggi, Santi e Caffè, con questo meraviglioso canto Andrò a vederla un dì al Cielo, Patria mia. Andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amore. Ecco, questo veramente è sempre l'anelito che deve accompagnarci. Il Paradiso sembra sempre così lontano, sembra una meta per certi versi irraggiungibile. Anche per tanti è come se non esistesse, non si parla più del cielo. Questo è veramente un dramma nella Chiesa contemporanea. Non si parla più del cielo, non si parla più del Paradiso. Allora quando pensiamo a Maria è già il Paradiso diventa evidente. Questa sera, in pieno clima, come si dice Ferragostano, io però continuerò la mia Catechesi Mariana che ieri sera ha avuto una sua prima esposizione. Questa sera vi aspetto, se volete, alle 21.30 per la Catechesi dal titolo Maria Paradiso di Dio e degli eletti. Questa sera alle 21.30 è una Catechesi un po' meno teologica, forse, dove farò parlare probabilmente un po' di più il cuore, perché io mi sento un innamorato di Maria, non nascondo di doverlo dire. C'è quella bellissima canzone, penso che tutti voi la conosciate, Vivo per lei, vivo per lei. Ecco, io non posso ascoltarla quella canzone lì, perché mi commuovo? Perché io vivo per la Madonna e tutta questa missione che sto portando avanti, così improbabile per certi versi, improponibile per altri, una missione veramente proibitiva, che ha reso la mia vita del tutto immersa in una missione, io non ho più spazi personali. Ecco, questa missione riesco a portarla avanti perché penso alla Madonna, il pensiero di Maria mi riempie il cuore, figlioli cari, il pensiero di Maria mi riempie l'anima, perché guardate, il sole a occhio nudo non si può vedere, così è Dio. Dio è, diciamo, anche se si è rivelato, però la parola rivelazione revelazio è latino anche, già in latino, vuol dire proprio coprire due volte, cioè proprio mentre Dio si rivela in fondo non fa che nascondersi, perché Dio è l'irraggiungibile, quindi la rivelazione ci serve per salvarci, ma Dio resta misterioso. Però quanto è bello invece quando contempli il sole riflesso, poniamo sul mare, oppure contempli il sole e lo puoi guardare riflesso sulle vette delle Dolomiti, oppure contempli il sole che illumina un'ampia campagna. Ecco, e così è Maria, Maria è con lei che riflette il sole. Il sole noi non lo possiamo vedere, ma Maria lo rende visibile. Ecco, lei è come la luna del resto che riflette non la luce propria, ma quella del sole stesso. Dobbiamo amare la Madonna, il segreto è questo, vorrei dirlo ai miei cari confratelli sacerdoti, io che non è falsa modestia, sono l'ultimo di loro, perché comunque sia sono, come dicono, scomunicato due volte, mi hanno reso noto ancora che in alcuni profili, poveracci, di questi dell'UNACUM dicono lo scomunicato di Palermo, quindi io sono l'ultimo dei miei confratelli, però se potessi dire loro qualcosa direi amate la Madonna, la Madonna è il segreto, è il segreto. Stamattina discutevo con una persona, ho saputo di un sacerdote, giovane, quasi coetaneo mio, che ha lasciato il ministero perché è andato con una donna e la donna è rimasta incinta e poi lui ha lasciato questa e si è messa con un'altra, sono quelle storie così dolorose dei preti che abbandonano il ministero, che lasciano il sacerdozio, il segreto è Maria, è un sacerdote che si consacra alla Madonna e non solo si salva, ma si fa santo e porta le anime al cielo. Allora guardiamo ora più che mai in questi giorni che ci separano dall'assunta, guardiamo alla Madonna, guardiamo a Maria, umile e alta più che creatura, lei è il paradiso di Dio ma è anche come vedremo questa sera il paradiso degli eletti perché in lei rifulge tutta la gloria e la bellezza di Dio e poi questo amore che portiamo alla Madonna è un amore sano perché è un amore filiale, la Madonna è mamma, è madre e quindi noi come figli sentiamo, possiamo vivere una relazione, soprattutto noi sacerdoti figli prediletti della Madonna, una relazione speciale, esclusiva con Maria perché siamo i suoi figli prediletti, quindi amando la Madonna noi piacciamo a Gesù, capito? Cioè questo è il segreto, se noi amiamo la Madonna e Gesù è contento e ci accorda tutto quello di cui abbiamo usato e poi si vede quando un sacerdote è di Maria, c'è quell'afflato spirituale, non so come dire, quella compostezza di fede, quel senso di raccoglimento interiore e che sono doni speciali della Madonna. Prepariamoci dunque a questa festa e questa sera alle 21 e 30 atterremo questa catechesi dal titolo Maria, paradiso di Dio e degli eletti, vi aspetto se volete alle 21 e 30. Oggi 12 agosto si celebra nel calendario liturgico tradizionale la festa di Santa Chiara d'Assisi, Santa Chiara d'Assisi, la socia Francisci, la compagna di Francesco, quante cose potremmo dire su questa straordinaria figura di donna prima discepola e non solo prima discepola ma potremmo dire cofondatrice con San Francesco del grande carisma francescano nella Chiesa Cattolica, un grande albero cresciuto nella iuola di Santa Madre Chiesa. San Francesco la chiamava la mia pianticella. Il legame fra Francesco e Chiara è un legame che ancora oggi viene approfondito, viene sondato, viene studiato, sezionato, resta un mistero, resta un mistero perché questi due, Francesco e Chiara, si sono realmente amati, avevano un amore intenso, profondo l'uno per l'altro, erano molto diversi. Francesco era bassino di statura, magro, smunto in viso, niente affatto fisicamente, non era un physique du rôle. Invece Chiara, come ci attestano le notizie del suo tempo, era nobile donna, apparteneva a una famiglia nobile, era bella d'aspetto, i capelli biondi, alta, slanciata, eppure la loro storia è una storia incredibile. Possiamo dire questo, anzitutto, che Chiara ha il merito duplice, anzitutto di aver saputo sostenere Francesco. Cioè, voglio dire, se Chiara è grande è perché ha tenuto il passo di Francesco, come nessun altro. Francesco, come tutti i Santi, soprattutto i grandi Santi, Francesco da Sisi appartiene ai grandi Santi, come Benedetto da Norcia, non so, ecco, come i grandi, grandi fondatori Ignazio di Loyola, sono Santi del gota cattolico, potremmo dire, e star dietro loro non è mai stato facile, star dietro ai Santi non è semplice, sono diversi, sono degli outsider, hanno continui colpi di scena, sono delicati, dolci e teneri, improvvisamente sanno diventare bruschi, severi e distaccati, sanno dare il cuore, sembra che stiano lì per essere totalmente con te e poi improvvisamente li vedi scomparire e nascondersi quasi in maniera violenta dagli occhi degli altri. Chiara ha avuto il merito, poiché lo amava in Dio, di tenere il passo di Francesco. Quel passo che persino i papi fecero fatica a comprendere, ad accogliere e a, diciamo, in qualche modo anche a benedire, a sostenere, Chiara ebbe il merito di saperlo tenere quel passo lì. C'è quel film, non so se ve lo ricordate, Chiara e Francesco, uno degli ultimi, che si conclude, mi pare, o inizia, ma mi pare che si concluda, con Francesco che cammina sulla neve, lascia le orme un po' più grandi e Chiara col suo piedino signorile, femminile, elegante, mette il suo piede sulle orme di Francesco. Ecco, Chiara che segue le orme di Francesco e questo è, diciamo, il grande merito di Santa Chiara, avere capito Francesco. Ed ecco il secondo aspetto. Chiara non solo ha tenuto il passo di Francesco perché anche lei era un'anima ardente. Diciamo che in fondo è come se fossero stati fratello e sorella gemelli, starei per dire. C'era una compatibilità caratteriale, spirituale, mistica e un afflato tra i due, per cui bastava che loro si guardassero negli occhi per fondersi nei cuori. Non aveva bisogno di parlare, sebbene Chiara ottenne quello che nessun altro era riuscito a ottenere, cioè Francesco era di poche parole, parlava piuttosto con Dio, ma con Chiara, come ora vi dirò, si trovava bene a parlare. Ma procediamo con Orri. Quindi è attenuto il passo di Francesco come donna coraggiosa, ma questo coraggio nella donna nasce quando il cuore è innamorato. Diversamente la donna non fa questi passi così arditi, è generalmente l'uomo che li fa. Francesco è senza dubbio, nel senso biblico e teologico del termine, un'esistenza profetica e Chiara è riuscita a stargli dietro. Ma soprattutto, ed ecco il secondo aspetto, Chiara ha capito Francesco. Chiara ha capito Francesco, ha capito chi era, l'ha capito subito. Le cronache, noi sappiamo che ci sta la vita di Tommaso da Celano, poi l'ha scritta una, anche San Bonaventura da Bagnoreggio, poi ce ne sono altre, i fioretti di San Francesco, insomma la letteratura francescana, come sappiamo, è immensa. Allora, la tradizione vuole che questa giovane fanciulla, loro si toglievano, se non ricordo male, 12-13 anni, Francesco era più grande di 12-13 anni, la tradizione vuole che quando Francesco si converte e poi va a vivere a San Damiano, di tanto in tanto rientra in città ad Assisi e rientra facendo il giullare, facendo il giullare una santità, diciamo così, quella di Francesco realmente straordinaria. Rientra suonando i coperchi delle pentole, vestito con un saio tutto rozzo a piedi nudi, trasandato e tutto giulivo, ilare, canta le lodi di Dio mentre chiede un po' d'aiuto. Tutta Assisi ritiene che Francesco sia matto, tutta Assisi per quella fase lì, che si prolungherà per qualche tempo, ritiene che il povero Francesco, figlio di Bernardone, sia uscito fuori di testa. L'unica, l'unica anima, l'unica che non dubita che Francesco sia invece non solo sano di mente, ma che voglia apparire matto per amor di Dio, l'unica che capisce questo segreto in quel momento è la giovanissima Chiara. Chiara probabilmente si conoscevano fin da piccoli, come nei film si vede, ma comunque come adolescente i processi di maturazione nella psicologia femminile sono molto più rapidi e immediati di quanto non siano quelli del maschio. È Chiara che è adolescente quando Francesco entra da Assisi completamente libero, gioioso di farsi prendere in giro, gioioso di essere trattato come un matto, ma Chiara lì da quella sua abitazione nobiliare, perché appartenono alla famiglia nobile, attraverso le feriate scorge Francesco, aspetta che Francesco passi e, diciamo così, senza tema di esagerare, si innamora di Francesco, si innamora del carisma di Francesco, si innamora della missione di Francesco e a partire da quel momento il suo cuore di giovane, ardente, appassionata donna viene ferito dall'amore di Dio. Chiara sente che non può più fare a meno di Francesco, sente che questo giovane uomo così piccolino è un gigante, è lei che lo sente per primo e questo è molto importante da dire. Quando tutti in quel momento, compresi i genitori, soprattutto i genitori, lo consideravano matto, chiara, aveva appunto chiaro che Francesco era niente affatto un matto, ma era un gigante di Dio e quindi la sua mente, il suo cuore, i suoi occhi si riempiono di Francesco e qui accade qualcosa che è successo di tanto in tanto nella storia della Chiesa con questi legami tra uomo e donna in Dio e qui accade qualcosa di misterioso che poi la teologia fa fatica in qualche modo a incasellare. Chiara, più si riempiva di Francesco e più si ritrovava piena di Gesù Cristo. Questa è una cosa che non si può spiegare, fioli cari, però è lì, è un dato di fatto, la storia lo dice. E poi è accaduto con Giovanni della Croce e Teresa Davila, Giovanna di Chantal e Francesco di Sales, San Giovanni Crisostomo e Olimpiade, ma la pletora di unioni spirituali di questo tipo è più ampia di quanto immaginiamo. Ai nostri giorni abbiamo visto, io ne ho scritto sul mio libro di von Balthasar, abbiamo visto, eccolo qui il testo, ve lo mostro in questo libro qui, Hansurse von Balthasar, profeta mistico teologo, uscito da me scritto, uscito di recente, ho scritto della relazione per esempio tra Adrien Fospayer e Hansurse von Balthasar. Accade lì qualcosa di molto misterioso, cioè, e parliamo ancora di Chiara, più Chiara pensava Francesco e più si riempiva di Gesù, più i suoi occhi si riempivano di Francesco e più erano pieni di Cristo, più la sua mente e il suo cuore si innamoravano di Francesco e più misteriosamente erano pieni di Dio. Francesco era il tramite che Dio adoperava perché Chiara potesse innamorarsi di Gesù Cristo. Noi non sappiamo esattamente in che modo siano avvenuti i dialoghi tra Francesco e Chiara. È molto probabile che Chiara avesse organizzato un paio di fuoriuscite con pretesti di andare con la sorella e con qualche amica a fare delle passeggiate primaverili, estive, per poter clandestinamente incontrare Francesco. A partire da questi dialoghi che Chiara coraggiosamente fa con il pazzo, con il matto, con il fuoriuscito di testa che è Francesco, Chiara piglia fuoco. E allora dice a Francesco, io voglio condividere il tuo carisma. Francesco è ancora solo, eh, attenzione. Non ci stanno neanche ancora fra Leone, fra Ginepro. Francesco è ancora solo e Chiara domanda di poterlo seguire. E qui si apre naturalmente un capitolo assolutamente straordinario che è quello della difficoltà, povero Francesco, di poter consentire a Chiara di star con lui. Non potevano stare insieme, non era previsto dalle leggi canoniche e dal vissuto della Chiesa. Però Chiara insiste dicendo a Francesco, io starò con te, Dio lo vuole, e tu chiedi un segno a Dio. Chiedi qualunque segno, dice Chiara a Francesco. Quindi, guardate che, diciamo, per capire veramente dov'è la grandezza di Francesco, dobbiamo guardare a Chiara. Allo stesso modo in cui, per capire il coraggio di Chiara, dobbiamo guardare a Francesco. Chiara attingeva coraggio e desiderio di farsi santa e di tuffarsi in Dio guardando Francesco. Allora Francesco dice a Chiara, senti Chiara, raggiungiamo un accordo. Ho pregato, dice Francesco, e ho chiesto a Dio un segno. Se Dio concederà questo segno, tu verrai con me. Pensate un po' che storie, fioli cari, quasi quasi un po' imbarazzanti se raccontate così come sono avvenute, senza fare quegli orpelli, non so come dire, scenografici che invece tolgono bellezza al racconto originario. Questi erano matti, erano matti per Dio. Del resto dovevano aprire una grande famiglia religiosa che oggi è quella che è, ma lasciamo perdere. Allora, Francesco dice a Chiara, fra un po' ci sarà la Domenica delle Palme e la tradizione voleva, apro una parentesi, che il Vescovo al termine della Messa consegnasse a chi voleva lui la palma che teneva in mano. Francesco dice a Chiara, centinaia e centinaia di fedeli presenti in Chiesa, se il Vescovo ti consegnerà la palma vorrà dire che è il segno che tu la notte successiva verrai dove sono io. Era passato un po' di tempo, così nel frattempo erano già arrivati i primi frati a seguire Francesco. Chiara va a Messa, cerca, perché il segno sia veramente evidente, che il Vescovo non si accorga di lei. Ad un certo momento il Vescovo sembra quasi volerla cercare, la individua, va verso la giovanissima Chiara e le consegna la palma. Quello era il segno che Francesco aveva chiesto. Chiara praticamente non sviene di gioia e di felicità proprio per non dare nell'occhio, ma il suo cuore va in fiamme. Dio aveva risposto. Chiara ha vinto, aveva vinto Chiara e per Francesco adesso, come ora vi dirò, iniziano i guai. Vorrei essere sintetico perché la storia è molto bella. Chiara di notte fugge di casa e raggiunge Francesco a San Damiano. Lì Francesco imbastisce una paraliturgia nella quale taglia la lunga e affascinante chioma di Chiara. veramente Chiara aveva una chioma, aveva dei capelli meravigliosi, biondi, proprio biondo platino. E questo è ancora possibile vederlo perché nella chiesa di Santa Chiara d'Assisi, nella basilica di Santa Chiara, dove riposano i suoi resti mortali, li hanno separati in morte. Questo secondo me non andava fatto. Francesco si trova da una parte e Chiara dall'altra. Andavano secondo me messi insieme, come hanno fatto invece con San Luigi Maria Grigno da Montfort e Luisa Trichet, come hanno fatto con Francesco di Sales e Giovanna di Chantal, che si guardano le tombe e con i loro volti si guardano, sono l'una di fronte all'altra. Qui invece purtroppo per ragioni storiche Francesco, che è morto molti anni prima, viene sepolto nella basilica costruita apposta per lui, è chiara, rimarrà ancora a lungo in vita nel monastero delle suore, che poi viene costruito il santuario proprio dove si trovano i suoi resti mortali, e lì c'è la cappella delle reliquie dove si conserva in maniera direi perfetta i capelli, tra le altre cose, i capelli di Santa Chiara. Sono dentro una teca di cristallo, di vetro, e dentro quella teca ci sono proprio i capelli biondi tagliati da San Francesco. È Chiara, è così contenta, ha raggiunto il suo obiettivo, potrà stare con Francesco, ma così non è. E qui adesso inizia la via Crucis di Chiara, una via Crucis che dimostra quanto questa giovane e coraggiosa donna fosse tenacemente innamorata di Francesco perché innamorata di Dio aveva visto in Francesco, in questo piccolo uomo, la presenza di Dio. Perché Francesco dice adesso ti porto dalle suore benedettine, qui è un trauma per Chiara, come mi porti dalle suore benedettine? Ma te mi hai detto che mi avresti tenuta con te e adesso mi... Ma Francesco dice ma guarda Chiara tu non puoi star con me, lì crolla un mondo. Lì è la crocifissione di Chiara, che adesso non ho il tempo di approfondire, ma in realtà avere aderito al progetto di Francesco è significato sacrificare la vicinanza a Francesco. È un grande martirio, il vero martirio di cui non si parla mai a sufficienza, che ha vissuto Chiara. Perché prima la porta dalle benedettine e la scarica lì, poi però Chiara insiste, allora Francesco è profondamente in difficoltà, comunque riesce a consegnarle il monastero che è diventato monastero di San Damiano, dove viene seguita poi da alcune. Ma Francesco andrà per la sua strada in quegli anni lì e Chiara implorerà i frati, sono storie commoventi ai limiti della commozione vera e propria. Implorerà i frati più vicini a Francesco, come fra Ginepro o fra Leone, che glielo portassero, voleva vedere il suo Francesco di tanto in tanto. Invece Francesco l'ha praticamente a un certo momento, diciamo così, l'ha sacrificata al disegno che Dio voleva. Lei che era proprio la più, che era stata la prima, lei che aveva sfidato tutto e tutti per rimanere accanto a Francesco, di fatto, pur condividendo nel carisma, non ha potuto stare fisicamente accanto a Francesco condividendone fino in fondo il carisma. Con l'aggravante poi, tra l'altro, che arrivavano non solo i frati, ma tante anche nobile donne che nel frattempo si prendevano cura, come solo le donne sanno fare, dei bisogni fisici di Francesco per cui lo accudivano. C'è quella lì, non mi ricordo in questo momento come si chiama, Jacoppa, Jacoppa da Sette Soli, romana, nobildonna romana, che si prende cura di Francesco perché è laica e Chiara lo sa e invece non può farlo. E così la loro vita trascorre in questo anelito profondo di Chiara. Nel film si vede che quando Chiara sa che Francesco parte per andare dal sultano desiderando il martirio, Chiara si ammala. E questo che si ammala è proprio vero, che Chiara si ammala perché desidera vedere Francesco e teme invece così di non poterlo più vedere. Quanto c'è di umano in tutto questo? Molto, tanto, troppo. Ma questo umano, perché noi siamo soliti sempre distinguere l'umano dal divino, ed è sbagliato. In Gesù Cristo l'umano e il divino si incontrano, ma questo sentimento umano Dio in Chiara lo ha, diciamo così, trasfigurato e le ha dato alla fine una grande vittoria. Perché quando Francesco ritorna e frate Elia cambia le carte in regola per Francesco è un trauma senza precedenti. Solo Chiara conosceva bene Francesco. Francesco aveva un temperamento giovanneo e per questo le donne lo capivano meglio degli uomini, come capiterà ad altri santi. E quando Francesco si ammala gli viene la malattia al fegato, la cirosi epatica, e poi anche si ammala gli occhi, cominciano a fargli male gli occhi, non ci vede bene, gli occhi gli si appesantiscono anche per le molte lacrime versate. Francesco entra in una dimensione simil depressiva, potremmo dire così e si fa portare da Chiara. Ecco, questo è un po' verso la conclusione di questo intreccio straordinario, quasi da stil nuovo, di Chiara e Francesco. Francesco ammalato, dopo che ha incantato il mondo, ritorna da Chiara. Chiara era andata agli inizi da Francesco, adesso nell'epilogo Francesco torna da Chiara e Chiara fa in tempo appena per qualche giorno, Francesco tra l'altro ha le stimmate a prendersi cura di lui e Francesco in questo modo viene lenito nel dolore di vedere l'ordine francescano travisato dall'intervento di Fratelia. Si riprende e così soltanto può prepararsi bene alla morte, saluta un'ultima volta Chiara e si fa portare in quel 3 ottobre del 1226, mi pare del 1226, si fa portare alla Porziuncola dove tutto era nato, si fa mettere a terra nudo e attende la morte che arriva di lì a poco. E come Gesù è sceso dalla croce dopo la morte, viene dato in braccio alla madre e tutti in silenzio assistono alla pietà, a questo incontro della Madonna addolorata col figlio morto, così Assisi ha potuto, come si vede negli affreschi di Giotto, rivivere questo rivedere, vedere coi propri occhi questa immagine della pietà perché è subito appena morto, ricomposto nel giaciglio, lo portano morto nel monastero di San Damiano perché Chiara lo possa un'ultima volta abbracciare. Si racconta che Chiara compare all'ingresso del monastero pallida come la Madonna addolorata, sorretta dalla sorella e dalla mamma e lei Chiara sente che in quel momento la sua vita è finalmente terminata. Dovrà rimanere ancora in vita per lunghi anni, ma questo è l'amore. Lei muore con Francesco, lei se ne va con Francesco. Fa però appena in tempo a compiere un gesto che le fa entrare nella storia, come ora vi racconterò, perché a Santa Chiara, dopo la morte di San Francesco, è legato il cosiddetto miracolo eucaristico di Santa Chiara avvenuto nel 1240, quindi parecchi anni dopo la morte di San Francesco. Cosa era avvenuto? Che i saraceni erano pervenuti ad Assisi e erano arrivati anche con le loro cavallerie presso il monastero. Le suore impazziscono di paura, Santa Chiara dice loro di star tranquille, una storia realmente accaduta, sente i loro pianti, allora ella, leggo dal testo di Tommaso da Celano, con impavido cuore comanda che la conducano, malata com'è, alla porta e che la pongano di fronte ai nemici preceduta dalla cassetta d'argento racchiusa nell'avorio nella quale era custodito con somma devozione il corpo del Santo dei Santi, l'eucaristia. È tutta prostrata in preghiera al Signore, nelle lacrime parlò così al suo Cristo. Ecco, o mio Signore, vuoi tu forse consegnare nelle mani dei pagani le inermi tue serve che ho allevato per il tuo amore? Proteggiti, prego, Signore, queste tue serve che io ora da me sola non posso salvare. Subito una voce, come di bimbo, risuonò alle sue orecchie dal tabernacolo. Io vi custodirò sempre. Mio Signore, aggiunse ancora Santa Chiara, proteggi se ti piace questa città che ti sostenta. E la voce da bambino dal tabernacolo le dice. Avrà da sostenere travagli, ma sarà difesa dalla mia protezione. Allora Santa Chiara, sollevando il volto bagnato di lacrime, conforta le sorelle in pianto. Vi do garanzia, figliole, che nulla soffrirete di male, soltanto abbiate fede in Cristo. Che grande fede quella di Chiara, ma come la stiamo raccontando, la sua vita è veramente degna di lode. Non vi fu ritardo. Subito l'audacia dei Saraceni è presa da spavento, perché la vedono avanzare e la trovano circonfusa di luce. Impauriti, i Saraceni fuggono via e Santa Chiara riesce con questo miracolo eucaristico a salvare non solo il monastero di San Damiano, ma anche tutta Sisi, perché i Saraceni impauriti vanno via. Ecco, bene, miei cari, io ho concluso questo omaggio alla pianticella di Francesco. Così San Francesco chiamava Santa Chiara. La chiamava la mia pianticella. Che Santa Chiara e San Francesco intercedano per noi e ci aiutino a resistere nel buon combattimento della fede, mentre attendiamo di celebrare con gioia la prossima solennità dell'assunta, che come vedete è veramente preceduta da grandi e importanti feste di Santi. Santa Chiara e San Francesco intercedano per noi. Adesso è possibile intervenire telefonicamente al numero in sovrimpressione, ve lo ricordo il numero 349 410 1638. Nel frattempo vi ricordo che questa sera alle 21.30 andrà in onda la Catechesi dal titolo Maria, Paradiso di Dio e degli eletti per meglio prepararci alla festa della Madonna Assunta. Volevo anche dirvi che ieri è stata effettuata un'intervista con Mori San che su YouTube ha più di 100.000 iscritti, quindi è uno YouTuber molto molto seguito che tiene trasmissioni di grande interesse su tematiche importanti. Ieri ha voluto farvi un'intervista a tutto campo, quasi un'ora e mezzo, nella quale abbiamo trattato tantissime tematiche di fede, sembrava praticamente una revival del catechismo. Bene, non so qui, non accade nulla, quindi a questo punto vi do la benedizione. Vi auguro una giornata piena di pace, di serenità. Vi raccomando di pregare ogni giorno il Santo Rosario. Fiori, cari, non lasciamo mai la corona del Santo Rosario. Ecco, qui c'è una telefonata, allora proviamo a rispondere. Vediamo cosa succede. È già cascata la linea. Si vede che quando ogni volta ci sono le telefonate accade sempre qualcosa di molto misterioso. Dovremo provare a risolvere questo problema qui. Probabilmente l'accumulo di telefonate. Io penso quello. L'accumulo di telefonate impedisce al cellulare, allo smartphone, di individuare una sola telefonata. Pazienza. Vi stavo dicendo di trascorrere la giornata in comunione con Gesù e Maria, soprattutto questi giorni di grazia nei quali ci prepariamo alla solennità dell'assunta. Vediamo se riusciamo con questa telefonata. Pronto? Sielo dato Gesù Cristo? Sempre sielo dato. Sono Roberto Travanuccio, quel rimbambito che chiede scusa per non essersi presentato e poi non si presenta. Scusi, volevo dire una cosa. Mi è venuta in mente una bellissima canzone cantata dal grande tenore Giuseppe Di Stefano e tu che mi hai preso il cuore. Credo che, anche se non è messo il nome della Vergine Maria, penso che si possa applicare a questa bellissima canzone. Sì, sì, certo. Sono d'accordo. Sì, sì, ho capito quale dici. Grazie di questo suggerimento, Renato. Sì, e tu che sei, sarai per me il solo amor. E no, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Tu come il sole, sei solo come il sole, adesso non ti ricordo. Sì, sì, sì. Perché l'ho contatto tante volte io e anche mio padre che era tenore, quindi mi è rimasta nel cuore. Certo. Bene, sempre sia lodato. Dio ti benedica, carissimo. Avanti con Maria. Sì, è un bel canto, ha ragione. Ecco, ha proprio ragione il nostro amico, è un bel canto che è sempre... Sentiamo l'altra telefonata. Pronto? Forse quella di Pocanzi. Prego, chi parte? Sono Italo da Roma. Sia lodato Gesù Cristo, Italo. Sempre sia lodato. Mi rinmovo, sono vecchio. Senti, voglio solo dirti grazie. Sì, grazie, grazie. Una ricchezza ci dai tutti i giorni impressionante. Grazie. Bene, ci provo. Grazie, grazie. Dio ti benedica, Italo, eh. Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Eh, però così mi fate commuovere. Lasciatemi lavorare. Poi quando verrà il tempo delle lodi, se è necessario, lo fate. Se no così, diciamo, io mi imbarazzano un poco. Mi imbarazzano un poco. Io tiro fuori dal cuore quello che sento e ve lo comunico perché lo faccio veramente con tutto il cuore. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sono romano. Sono romano che telefono. Ah sì, romano, eccoci. Io mi ricordo di che San Paolo dice che per colpa del peccato, che la morte entrò nel mondo. Sì. Ecco, perché mi ponevo questo problema. È una buona domanda. Perché si chiede. Certo, certo. Mi pare di averlo accennato ieri sera. Comunque adesso in una parola lo spiego, romano, va bene? Grazie. Dio ti benedica con tutto il cuore. Un'ottima domanda che il romano fa. Cioè, perché la Madonna è dovuta comunque morire, visto che era senza peccato originale e perciò non doveva conoscere la morte? Intanto ieri sera ho spiegato che una buona riflessione teologica dice che anche se non ci fosse stato il peccato mortale, questo ricordo di averlo detto, comunque la morte sarebbe avvenuta, non in modo così traumatico come accade, ma sarebbe stato un passaggio dall'Eden al paradiso vero e proprio. Detto questo, il motivo per cui la Madonna muore è perché desidera che il figlio la identifichi pienamente a sé. Quindi come Gesù è morto, anche la Madonna sapeva che sarebbe stata assunta in cielo, che avrebbe avuto una gloria speciale, però ha chiesto nella sua umiltà che l'identificazione e l'immedesimazione a suo figlio Gesù Cristo fosse completa e piena. Per questo Dio ha permesso che conoscesse la morte, però, siccome appunto era senza peccato originale, è stata una coimesis, dicono i greci, cioè un addormizio, un addormentarsi piuttosto che un morire, è vero, è proprio. Questo è in fondo il motivo per cui appunto la Madonna conosce in maniera però mistica, cioè in definitiva lei muore per un assalto d'amore, muore perché Dio la raggiunge e questa volta il suo cuore non riesce più a reggere l'impatto, l'urto dell'incontro con l'amore di Dio. Bene, miei cari, allora oggi ho concluso, chiediamo alla Madonna che ci assista e ci protegga, mentre nel frattempo va in onda, come penso sentirete, il sottofondo musicale di quello splendido film poetico, direi, secondo me da premio Oscar, di Franco Zeffirelli, il fratello sole e sorella luna, il sole è Francesco, la luna è Chiara, Chiara riflette la luce di Francesco e veramente Chiara ha desiderato anche dopo la morte del suo Francesco che il carisma di Francesco non venisse alterato. Mentre ascoltiamo appunto in sottofondo così bello di Rizzo Ortolani, dobbiamo a Santa Chiara, lo dico veramente per l'affetto che porto verso questa straordinaria donna cristiana, che dobbiamo a Santa Chiara il merito di avere custodito il vero originario carisma di Francesco, perché alla sua morte ci sono stati tanti tentativi, come sempre succede, di manipolarne il carisma, di addolcirlo, di addomesticarlo. Finché è stata in vita Chiara, nessuno potè riuscirci e il merito che la Chiesa le riconobbe fu così grande che il Papa andò a trovarla. Quando canonizzo Francesco, Chiara era ancora in vita, Chiara in vita assiste alla canonizzazione di Francesco, la Chiesa lo riconosce santo. Chiara, nascosta tra le mura del monastero, Chiara che sta lì a pregare con le sue suore, con le sue suorine, potrà dire, sussurrando la voce bassa nel momento in cui tutta la Chiesa, applaudendo, riconosce Francesco come santo. Chiara, chiara, sottovoce, potrà dire, io sono stata la prima ad averlo capito. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.